è originario della zona centrale montuosa del giappone fci 257 gruppo 5 non è nota la sua progenie ma la razza è protetta dal 1936 cane di piccola taglia molto robusto e muscoloso la testa larga e le guance belle paffute occhi scuri e triangolari le orecchie piccole e triangolari rivolte in avanti la coda è corta e arrotolata pelo ruvido e dritto con folto sottopelo il colore è nero focato rosso e bianco sesamo o sesamo rosso la taglia 39,50 centimetri per i maschi e 36,50 per le femmine è un cane molto attivo probabilmente discende da cani da combattimento se ben addestrato può diventare un buon cane da compagnia adatto ai bambini e alla vita familiare può vivere in appartamento ma deve fare molto movimento non soffre di problemi di salute ed è molto longevo grazie a tutti grazie a tutti